Il fondatore è icona assoluta della pop art, protagonista a Villa Bertelli fino al 29 maggio, con una mostra straordinaria dal titolo Andy Warhol e la New Pop, inaugurata venerdì mattina alla presenza del sindaco Bruno Murzi, del presidente della villa Ermindo Tucci e della fondazione Mazzoleni che cura l'esposizione. Una collezione di circa 100 opere, a partire dai simboli più popolari e riconosciuti in tutto il mondo, quali le Marilyn, il Mao e le Campbell's, ai cimeli più rari e introvabili come le scarpe di Michael Jackson e la chitarra di Rolling Stones. Le opere più amate delle artista statunitense, fra inediti e chicche, sono ospitate al primo piano, mentre al secondo si trovano invece le opere di sette artisti pop emergenti. Villa Bertelli fino ad adesso non ha mai fatto delle mostre che potevano in qualche modo guardare al pop, guardare proprio al moderno. Una mostra che nasce fuori stagione e per cui coglie nel segno, nel senso che dobbiamo dare anche un significato turistico. A quale pubblico parla questa mostra? A tutti, perché l'intento della fondazione è proprio quello di sensibilizzare all'arte, non solo gli appassionati, ma soprattutto i giovani e non solo, non solo gli appassionati di arte e quindi sensibilizzare il maggior numero di persone possibili. Una mostra che grazie all'indiscusso appeal dell'artista si candida ad essere una calamita di visitatori per la Versilia per tutta la primavera. La Villa Bertelli si sta dimostrando sempre di più un centro culturale importante e non soltanto un teatro estivo, diciamo così. Quello che la gestione di Ermindo Tucci ha dato alla Villa Bertelli è stata un'apertura tutto l'anno, tutta una serie di eventi storici e culturali. La mostra rimarrà a Villa Bertelli fino al 29 di maggio, gratuita per le Under 18 e per i residenti a Forte Remarmi.